New York 24 aprile 1971 Dobbiamo osservare i nostri rapporti come realmente sono, giorno per giorno. Osservandoli scopriremo come trasformarli. Parleremo del fatto reale. Ciascuno di noi vive in un suo mondo, nel suo mondo di ambizioni, di avidità, di paure, di desideri di riuscita e così via. Sono sposato e ho delle responsabilità, dei figli. Vado in ufficio o nel mio luogo di lavoro, marito e moglie, ragazzo e ragazza si incontrano a letto. Questo è ciò che chiamiamo amore. Condurre vite separate, essere isolati, erigere un muro attorno a noi stessi, compiere azioni centrate su di noi. Tutti cerchiamo sicurezza, sicurezza psicologica. Ognuno dipende dall'altro per il suo benessere, il piacere e la compagnia. Poiché siamo tutti così profondamente soli, vogliamo essere amati, vogliamo che si prendano cura di noi e vogliamo dominare l'altro. Se vi osservate, scoprirete in voi tutto ciò. Ma questi sono rapporti? Ci sono due esseri umani, ma non c'è un rapporto. Possono avere dei figli, è una casa in comune, ma non sono in rapporto. Forse hanno un progetto in comune, che li sorregge, li tiene assieme, ma questo non è un rapporto. Vedendo ciò, si comprende che, se non c'è un rapporto tra due esseri umani, le cose cominciano a corrompersi. Non la corruzione esterna, sociale o l'altra corruzione che è l'inquinamento, ma l'inquinamento e il disgregamento interiori. Gli esseri umani non hanno reali rapporti, come non li avete neanche voi. Anche se tenete l'altro per mano, vi baciate e dormite nello stesso letto. Se osservate attentamente, trovate un vero rapporto? Essere in rapporto significa non dipendere dall'altro, non cercare scampo alla vostra solitudine nell'altro, non cercare nell'altro gratificazione e compagnia. Se affidate il vostro benessere a un altro, ne siete dipendenti e può esserci vero rapporto? Non vi state forse sfruttando a vicenda? Non si tratta di cinismo, ma di vedere come le cose sono realmente. Non è cinismo. Per scoprire che cosa significa realmente essere in rapporto, occorre capire il problema della solitudine, perché siamo terribilmente soli. Più invecchiamo e più siamo soli, soprattutto in questa società. Avete osservato gli anziani? Avete notato le loro vie di fuga e i loro passatempi? Dopo aver lavorato tutta la vita, si rifugiano nei passatempi. Di fronte a tutto ciò, è possibile trovare un modo di vita in cui non usiamo l'altro, né psicologicamente né emotivamente, in cui non dipendiamo dall'altro e non lo utilizziamo come fuga dalla nostra sofferenza, dalla nostra disperazione, dalla nostra solitudine. Vedere ciò equivale a vedere che cosa significa essere soli. Siete mai stati soli? Sapete che cosa significa? Significa non avere rapporti, essere totalmente isolati, essere in famiglia, tra la folla o al lavoro, ovunque. E questo senso di totale solitudine vi cade addosso, con tutta la sua disperazione. Se non avete risolto definitivamente il senso di solitudine, tutti i vostri rapporti non saranno che fughe e finiranno nella corruzione, nel dolore. Come si può conoscere questa solitudine, questo senso di totale isolamento? Per conoscerlo, occorre esaminare la nostra vita. Ogni vostra azione non è forse rivolta a vantaggio dell'io? Ogni tanto potete essere altruisti, generosi, fare qualcosa disinteressatamente, ma sono occasioni rare. Questa disperazione non può venire sciolta con la fuga, ma solo conoscendola. Così siamo ritornati alla domanda. Come osservare noi stessi con un'osservazione che non implichi conflitto? Perché il conflitto è una corruzione, è uno spreco di energia, è una battaglia che combattiamo senza posa dalla nascita alla morte. È possibile vivere senza un solo momento di conflitto? Per riuscirci, per scoprirlo da noi stessi, dobbiamo imparare a osservare tutto il nostro funzionamento. C'è un'osservazione vera, ed è quella in cui l'osservatore è assente, in cui c'è solo osservazione. Se non c'è rapporto, può esserci amore? Parliamo tanto di amore, ma l'unico amore che conosciamo è legato al sesso e al piacere. Non è vero? Qualcuno dirà di no, ma per poter dire di no, dovete essere privi di ambizione, privi di competitività e di divisione. Non devono esserci tu e io, noi e loro. Non ci devono essere divisioni di nazionalità, né divisioni prodotte da credi e idee. Solo allora potrete dire di amare. Per la maggior parte di noi, invece, l'amore è collegato al sesso e al piacere, e a tutta la sofferenza che ne deriva. Gelosia, invidia, antagonismo, è tutto ciò che sapete benissimo che si instaura tra un uomo e una donna. Se i nostri rapporti non sono veri, reali, profondi e totalmente armoniosi, come potrà esserci pace nel mondo? Come potranno avere fine le guerre? Il rapporto è quindi una delle cose più importanti della vita. Anzi, la più importante. Ciò significa che dobbiamo scoprire che cosa sia l'amore. Ma non è cercando di scoprire l'amore che lo scopriremo. Solo scoprendo che cosa l'amore non è, sapremo che cos'è l'amore. Non in teoria, non verbalmente, ma scoprendo che cosa non è, e cioè non avere una mente competitiva, ambiziosa, che paragona e che imita. Una mente così non può amare. È possibile, vivendo nel mondo, vivere senza ambizioni, senza assolutamente paragonare voi stessi agli altri? Infatti, nel momento stesso in cui fate paragoni, nasce il conflitto, l'invidia e il desiderio di ottenere, di superare l'altro. Può una mente che non riesce a dimenticare le ferite, i maltrattamenti e tutto ciò che la resa insensibile e chiusa, possono una mente si fatta e un cuore si fatto conoscere l'amore? L'amore è piacere. Consciamente o inconsciamente, noi cerchiamo il piacere. Anche i nostri dei sono prodotti del piacere. Le nostre credenze, la struttura sociale, la moralità sociale, che è essenzialmente immorale, sono il prodotto della nostra ricerca del piacere. Quando dite amo una persona, è amore? Amore significa non separazione, non predominio, non egoismo. Per scoprire l'amore, occorre negare tutto ciò, negarlo nel senso di vederne la falsità. Quando vedete la falsità di qualcosa, che sinora avete accettato come giusto, naturale e umano, non potrete più ricadervi. Se sapete che un serpente è velenoso, o che un animale è pericoloso, non ci scherzate, anzi, non vi ci avvicinate neppure. Così, vedendo davvero che l'amore non è niente di tutto ciò, sentendolo, osservandolo, gustandolo, vivendolo, e dedicandovi tutti voi stessi, saprete che cos'è l'amore, che cos'è la compassione, che è passione per chiunque. Non abbiamo passione, abbiamo lussuria, piacere. La parola passione deriva da patire. Tutti abbiamo patito qualche pena, la pena di una perdita, la pena dell'autocomiserazione, la pena umana, collettiva e personale. Tutti conosciamo la pena, ad esempio, la morte di qualcuno che credevamo di amare. Se restiamo con questa pena totalmente, senza razionalizzarla, senza fuggirla in nessun modo, né con le parole, né con le azioni, se rimaniamo con la pena completamente, senza rifugiarci nei pensieri sulla pena, scopriremo che dalla pena nasce la passione. Questa passione ha la natura dell'amore e l'amore non conosce pena. Sapreste vivere una vita ora, oggi stesso, in cui tutto ciò che iniziate ha anche una fine? Naturalmente non sto parlando del lavoro, ma della vostra interiorità. Mettere fine a tutte le conoscenze acquisite, conoscenze che sono le vostre esperienze, i vostri ricordi, le vostre ferite, i continui paragoni, i continui raffronti tra voi e gli altri. Mettere fine, giorno per giorno, a tutto ciò, così che domani la vostra mente sia giovane e fresca. Questa mente non potrà mai venire ferita e questa è l'innocenza. Dobbiamo scoprire da noi stessi che cosa significa morire. Allora non ci sarà più paura. Ogni giorno sarà un nuovo giorno. Lo dico davvero ed è davvero possibile. E la mente e gli occhi vedranno la vita come una cosa sempre totalmente nuova. Questa è l'eternità. Ecco la qualità della mente che ha trovato questo stato senza tempo, perché sa che cosa significa morire ogni giorno, a tutte le cose che ha raccolto nel corso della giornata. In questo c'è vero amore. L'amore è totalmente nuovo, ogni giorno, mentre il piacere no. Il piacere è in ripetizione. L'amore è sempre nuovo, perciò è in sé stesso eternità. Avete delle domande? Domanda. Lei sembra credere nella condivisione, ma nello stesso tempo afferma che i coniugi o una coppia non possono e non devono basare il loro amore sullo star bene reciproco. Io non vedo niente di male nello star bene reciproco, anzi, mi sembra condivisione. Cresce la morti. Tu, che cosa condividi? Che cosa stiamo condividendo in questo momento? Stiamo parlando della morte? Stiamo parlando dell'amore? Della necessità di una rivoluzione totale e di una radicale trasformazione psicologica per non vivere più secondo i vecchi modelli o le vecchie formule della lotta, della sofferenza, dell'imitazione, del conformismo e di tutto ciò che costituisce la vita dell'uomo da millenni e che ha prodotto questo mondo meraviglioso e così in disordine. Abbiamo parlato della morte. Come possiamo condividerla? Condividere la conoscenza? Non le affermazioni verbali, le descrizioni e le spiegazioni? Che cosa significa condividere la comprensione? Condividere la verità che deriva dalla comprensione? E che cosa significa comprensione? Voi mi parlate di qualcosa di estremamente serio, importante, essenziale, vitale e io ascolto totalmente perché è vitale anche per me. Per ascoltare con questa vitalità la mia mente deve essere silenziosa, non è vero? Se nel frattempo chiacchiero, se lo sguardo corre da questo a quello, se paragono quello che dite con ciò che già conosco, la mia mente non è silenziosa. Solo quando la mia mente è silenziosa e ascolta totalmente, ci può essere comprensione della verità di ciò di cui si parla. È questo che condividiamo, altrimenti non c'è condivisione. La condivisione non sta nelle parole, ma nella verità di una cosa. Voi e io possiamo cogliere la verità di qualcosa solo se la mente si dedica totalmente all'osservazione. Vedete la bellezza di un tramonto, delle colline, delle ombre e della luna. Ma come la condividete con gli amici? Dicendo guardate che splendide colline? Certo, potete dirlo, ma è condivisione? Condividere davvero qualcosa con un altro significa provare entrambi la stessa intensità, nello stesso momento e allo stesso grado, altrimenti non stiamo condividendo. Non è vero? Dobbiamo avere un interesse comune, che viviamo allo stesso livello, con la stessa passione. Se non è così, come possiamo condividere qualcosa? Si può condividere un pezzo di pane, ma non è questa la condivisione di cui stiamo parlando. Per conoscere assieme, e questo è condividere, entrambi dobbiamo vedere, non essere d'accordo o in disaccordo, ma vedere insieme ciò che realmente è. Non interpretarlo attraverso i miei condizionamenti o quelli dell'altro, ma vedere insieme ciò che è. E per poter vedere insieme, dobbiamo essere liberi di osservare, dobbiamo essere liberi di ascoltare. Ciò implica non avere pregiudizi. Solo così, solo con questa qualità di amore, ci può essere condivisione. Domanda Parlando di rapporti, lei parla sempre di un uomo e una donna, ma la stessa cosa è applicabile al rapporto tra un uomo e un altro uomo o una donna e un'altra donna? Krishnamurti Rapporti omosessuali? Domanda Se vuole chiamarli così, sì. Krishnamurti Parlando dell'amore tra uomo e uomo, donna e donna o uomo e donna, non parliamo di una forma specifica di rapporto, ma del funzionamento generale, del senso globale del rapporto e non di quante persone sono implicate nel rapporto. Lei sa che cosa significa il rapporto con il mondo sentendo di essere noi il mondo? Non in teoria, sarebbe spaventoso, ma sentendo realmente che ne siamo responsabili e che abbiamo assunto su di noi questa responsabilità. Questo è il vero impegno, non quello che passa per le bombe o per un'attività qualsiasi, ma sentire che io sono il mondo e il mondo è me. Se non cambiamo completamente radicalmente, con una trasformazione totale di noi stessi, qualunque cosa facciamo esternamente non porterà pace all'umanità. Se le sente nel sangue, le sue domande avranno un'urgenza nel presente e produrranno un cambiamento nel presente che non riguarda più solo ideali astratti. Ti ringrazio molto per aver visto e ascoltato questo video sperando che porti consapevolezza e gioia nella tua vita. Metti mi piace e iscriviti al canale Doeia per ascoltare altri contenuti simili. Ci vediamo al prossimo video!